bello a tutti ragazzi benvenuti stiamo giocando con dragon quindi insomma ci si aspetta dragon vuoi dire qualcosa siamo su una classificata sei emozionato sono io che ti rendo nervoso manco per il cazzo se è mutato secondo me bisognerebbe trovare il giusto incentivo per te dragon risolvendo coincidenza oppure passo questa mappa oh io non ho fatto nulla io non dai sempre la colpa a me no andiamo in comprensori o in sala ricreativa comprensori tanti uguali ragazzi è una classificata abbiamo il buon finucane il buon patrizio dal culo natalizio e nub è la sedia del finucane è la sedia del finucane ragazzi se sentite rumori strani non vi preoccupate una sedia che quando si muove fa un rumore che ricorda vagamente una scorreggina ma non è una scorreggina esatto vorremmo specificare che non si tratta di una scorreggina giusto giustissimo mi pare giusto è lo sfregamento sulla fin pelle ma chi è che beve con un cammello ma sono bombe mi avvisate se c'è qua 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 mi raccomando il perimetro esterno è più importante là eh due mi avvisate se c'è twitch chi ha una blindatura io patrick fai garage corri ma qua non c'è combattere del drone patrick ci sono i miei cosi vieni c'era twitch c'è twitch ok ok siamo qua sopra che te dragon arriva da noi mi sa sai tanto fucilare mi nascono solo che posiziono i droni pat è lo zio si piastra in giro c'è un drone no ma è quello del è quello di si tra con c'è gente cazzo c'è quella puttana come è fatto qua ok c'è neanche uno sotto verso il garage qui c'è cazzo bucato dragon qui c'è quella che merda merda che stanza ha bucato quella che fa i bombolotti ok pat in fondo dovrebbe starcene uno qui sotto da otto bisogno dovrebbe vederlo non c'è più noob ti salvo io sei a sinistra dragon bravo assist dov'è vedete l'assist significa che quello che mi si è piazzato il cadavere sullo drone ma sliamone da te ma dove qui master aspetta scusa era un po' concentrato abbi pazienza bravo bravo master qui ero un po' bago ero in cucina no ho fatto z però la formica come si chiama l'indicatore dai quello che si mette un pallino giallo non l'avevi visto io vado al campeggio dragon dov'è il campeggio il campeggio bravo pitico dai che l'ha imparata e l'eserto eh accanto a cose eh spero che almeno questo tu l'abbia imparata per quanto a noi operatore master operatore non lo so cosa prendere sono molto indeciso vabbè piglio lei la mia puttanella di fiducia e vabbè ecco per te e non era la sedia non era la sedia questa si però questa è la sedia e non era neanche un pollo no non ero io attento non brucia il grido non cadde per terra c'è un terremoto e vabbè e la vado e l'ultimo e l'ultimo e l'ultimo questa battuta la c'era male l'elementare è pazzo eh si è una battuta proprio l'elementare asilo anche da asilo nido spero io proprio quando venivo in giro ho comprati di gara nè nè sono anche d'oro dovevano noi comunque sei sicuro 100% grandi successi o dobbiamo velocizzarci perché ultimamente sono lenti c'è bandit ho paura se andiamo sopra di sfondiamo il pavimento non sarebbe ma è infatti lo stavo per proporre ci sarebbe una garage va bene potremmo usare anche le cariche che ha thermite mi seguo padre che ti seguo distruggo le telecamere non quello che posso questa posso che cazzo è poi quindi dove andiamo andiamo su io e te andiamo sopra si posso la voglio bella e indolore qui è una barricata a metà però non barricata ce n'è uno mi sa padre che ci sei cazzo merda finestra aperta ma per cui sei entrato da là no voglio fare un giro da sopra da dietro però non volevo andare in faccia ma parche dov'è c'è questo qua sapeva che cazzo ora angelo vado a prendere dragon ti stai fare le seghe no sto preso ok bene l'abbiamo stanza accanto vai sopra non andare sotto sotto l'italia l'arma è tale esattamente ma perchè non mi fa salire andiamo sopra o no si si sopra inizia ad entrare maestro ok da solo così ci focca ma sopra sopra no no lì ahia le finestre lì però stai attento che ti possono sparare dall'altro lato dell'edificio manda il drone estordente ma che sfiga come è il dragon allora il lato mio è libero il lato di angelo è libero però niente trappole non ci sono trappole le scale per un momento le vedo libere dove vai entra l'angelo raga veloci lo stanzino lo vedo libero angelo vai nello stanzino in fondo è questo no no gira è in fondo ecco lì dove c'è quella finestra si entra dentro e spacca il pavimento non preso tu non lì dove eri prima nell'altra stanza esatto in quella stanza lì spacca il pavimento anche lì nell'angolo se riesci no no dietro girati girati l'angolo dove c'è il muro sfondabile a sinistra ecco giatto poche eventuali gente che può salire hai trovato la bomba ha fatto che è stato vendicato vedi qualcosa angelo 15 secondi una minchia rimangono 10 secondi da dove mi hanno sparato da sotto corro minchia sbaglio strada no vabbè limite di tempo superato questa lì l'abbiamo regalata andiamo nell'ufficio no non piamo di sopra vabbè è così fanno else sarà ricreativo ufficio va bene vengo a dock allora ma dove mi sono sul cazzo non dicono else sì vabbè ma sa stare tanto gli impiccherai su per il culo patrick con la testa rivolta con le labbra verso l'anno generoso tra le labbra il rivolso verso l'anno così tipo col paolo che esce da bocca raga vogliamo concentrarci siamo pure bravi quando ci concentriamo a parte a parte la sedia che ogni tanto ci distrae ma vabbè non sappiamo la sedia master dovremmo vogliarla un po' di più è come mouse devo difendere voi blindate qui io vado a blindare gli carai parassita in azione vento in un po' di coletto vieni qui cazzo mi sono perso vai a fare in culo figurati ci sarà sicuramente quel pezzo di cacca parassita fiazzata ah sono rimasti in tre ricarico copritemi eh vai non hai detto che ci possano fare il culo ah sono rimasti quelli senza kill apposto quelli che fanno es voglio vedere come fa es lo fico su per il culetto chiudete chiudete tutte le porte per favore chiudete chiudete qua ti giudo fuori patrick vai vai no vabbè lasciala aperta vabbè 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 se vuoi chiudere le porte quelle grandi noob ah ok no c'è angelo noob allora vabbè dall'altro lato si azionano i droni angelo non avete chiuso le porte qua come i droni aspetta no l'ho perso caccia era andata mi dici che è un drone raga mi dici che è un drone non è vero hanno fottuto oh è lì lo vedo accanto a te vabbè anche tappato porca troia tutti da te pat si tutti e tre venite qua angelo ti lascio il garage oh grazie angelo adesso è il garage angelo entri qui comunque non me lo danno non so dove è sledge o quello che cassa la granata ah vabbè fatto mamma mia no no si è arreso si sono arrese cosa vuol dire che si sono arrese hanno votato la resa e basta fine abbiamo vinto eh sì ah bene se non lo sono voluta chiamare però vittoria per resa cioè dai non si fa mica così quindi è tornato ora argento mira alla prossima